Consigliere, la situazione di Itaca sta diventando un po' problematica, c'è una lettera, trattino di fida, del sindaco di Lecce, Salvemini, insomma cosa sta accadendo? Il piano di zona ha comunicato a tutte le famiglie che soffrivano del servizio di trovarsi una situazione diversa perché il primo luglio non poteva essere più garantita un tipo di assistenza. Che ci sembra una cosa davvero grave perché era un servizio così socialmente importante e perché poi nel tempo sono professionisti che hanno sviluppato in questi dieci anni un rapporto particolare, professionale, amorevole anche con tutti questi ragazzi e con le loro famiglie che mi sembra davvero una cosa disastrosa rompere questo rapporto. Qual è il rischio secondo lei a questo punto? Il rischio è che troviamo, è dubbio, il primo è che abbiamo 16 famiglie, nel tempo sono anche 25, alcuni passaggi che non sanno come fare ad essere aiutati per gestire il disagio che hanno in casa. E l'altro rischio è di 16 famiglie che si trovano senza uno stipendio perché i 16 lavoratori non hanno più di che lavorare. Cosa chiedete al sindaco di fare un passo indietro a questo punto? Ma mi sembra che questo potrebbe essere un problema risolto dalle amministrazioni, il sindaco, quindi il comune di Lecce, la regione e l'ASL. Hanno lo stesso colore di tutte quante, quindi sarà anche semplice cercare di trovare un coordinamento e trovare una soluzione a un problema che è soprattutto sociale.